A giugno qualche polemica, il buratto che si bloccava, poi un intervento che è stato provvidenziale. Cosa è stato fatto? Sembra non stia dando assolutamente problemi. No, rispetto a giugno sono state fatte molte cose importanti, sia nel meccanismo di sgangio, sia nelle molle, sia anche sulla rotazione, sulle leve in particolar modo. C'erano quindi delle possibilità, si pensava ad una sostituzione del buratto, a questo punto si può dire che il malato è stato curato? Il malato è stato curato penso all'80%, come affidabilità penso siamo al 100%, però sicuramente bisogna intervenire ancora di più per avere più sicurezza per quanto riguarda i cavalieri. Sì, è sicuro anche ora, però per avere più una certezza di sicurezza penso bisogna intervenire sicuramente. Cioè quindi la necessità in prospettiva di una sostituzione dell'automaco ormai viene richiesta da tanti anni? Ma io la struttura penso che va bene, c'è da migliorare il meccanismo, c'è da migliorare alcune cose, però non penso sia proprio da buttare via, penso. Interventi che possono essere fatti entro la prossima giostra di giugno? Sì, infatti io ho detto che il Comune si è dovuto impegnare con me e con la mia azienda, tra i torchi da preziosi, io però voglio intervenire subito, come avevo detto anche a giugno, di intervenire subito, poi dopo sono subentrate delle problematiche, sono intervenuto l'ultima settimana come sempre. Quindi insomma il buratto verrà ricoverato dopo il saracino di settembre? Ricoverato no, io ho fatto un controllino più dettagliato da ora ricoverato, si dà fra dottori, professori, farmacisti. Ciao!